Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. In Italia la sanità pubblica sta affondando, i ricchi saltano la fila. Buongiorno a tutti, se ne sono accorti anche in Spagna, come sembra da questo titolo della rivista Il Salto, che scrive come il disinvestimento nella sanità negli ultimi anni abbia portato alla carenza di operatori sanitari e alla proliferazione di servizi privati di pronto soccorso dove le persone pagano per evitare le lunghe attese. In Italia bisogna ormai aspettare anche più di un anno per ottenere una visita specialistica. Ora lo sanno anche i lettori spagnoli. In un panorama dove le file ai pronto soccorso arrivano fino a tre ore per i casi urgenti e otto per la normale amministrazione e dove in molte città e in molti quartieri mancano anche i medici di famiglia. E ormai è evidente che nemmeno il caos del 2020 con il disastro del Covid ha insegnato nulla. Anzi, se nel 2020 i posti retto erano solo 258 mila, nel 2022 erano scesi a 225 mila e 500, circa 100 mila in meno. Ancora l'Italia nella classifica europea dei posti letto è in ventiduesima posizione con una media di 314 ogni 100 mila abitanti, contro la media europea che è di 550. E questo solo per quanto riguarda i ricoveri ordinari. Non va meglio con le terapie intensive, dove noi ne abbiamo 9 ogni 100 mila abitanti, contro i 30 della Germania e i 20 della Francia. E cala il numero degli ospedali, in dieci anni ne hanno chiusi quasi 100. Ancora dati, 12 regioni su 20 non garantiscono il minimo dei livelli essenziali di assistenza. Nella sola Campania, negli ultimi vent'anni, gli ospedali sono scesi da 55 a 46, mentre le cliniche private accreditate sono salite da 61 a 73. Poco da aggiungere, no? La rivista spagnola passa poi a parlare della situazione dei medici con i salari più bassi d'Europa e con ritmi e carichi di lavoro insostenibili. All'università si entra a numero chiuso e quando escono se ne vanno a lavorare all'estero a migliaia. 11 mila nel solo triennio tra il 2019 e il 2022. E chi non va all'estero cerca con molta assiduità prima di entrare nella sanità privata. Tutti i governi, tutti, senza nessuna differenza, destra, centro, sinistra, hanno continuato a tagliare la spesa sanitaria pubblica, che quest'anno rappresenta il 6,4% del PIL e continuerà a scendere. Per questo gli italiani, che già nel solo 2022 hanno dato 41 miliardi di euro di tasse al solo comparto sanitario, se vogliono essere curati in tempi ragionevoli, devono rivolgersi al privato e sborsare altro denaro o rinunciare a curarsi, cosa che purtroppo avviene sempre più spesso. Ultimo ma non da ultimo, il pronto soccorso con l'esplosione anche di quelli privati, per non dovere aspettare tre ore anche con un codice giallo. Pronto soccorso che sono uberati quelli pubblici, in quanto tra i tanti codici bianchi e verdi, migliaia di casi potrebbero essere risolti negli ambulatori del medico di base o in farmacia. Il servizio è ancora molto lungo, e se volete continuare la lettura di questo servizio di El Salto, c'è come sempre la newsletter per leggervi il testo. E ora Meloni, 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 è di nuovo il momento suo in attesa dell'incoronazione europea. Qualcuno, non in tanti in verità, ma molti giornali turchi sì, si sofferma sulla Gag di Caivano, dove lei, che dà la mano al governatore De Luca, si presenta come quella stronza della Meloni. Si divertono i turchi, si divertono molto più di noi. Molte altre testate, invece, continuano a commentare la grande trasformazione della nostra leader da battagliera anti-establishment a statista che a Bruxelles si muove come se fosse nel suo acquario. Addirittura dal Giappone, il Japan Times titola «Una volta ostracizzata, l'italiana Meloni è ora al centro della scena europea». Quando entrò a Palazzo Chigi nel 2022, l'estrema destra di tutta Europa la salutò come la focosa leader che avrebbe portato avanti le loro istanze nazionaliste e anti-europeiste. Ma, scrive il Japan Times, anziché scontrarsi con le elite dell'Unione Europea, lei ha sorpreso tutti, amici e anche nemici, lavorando a stretto contatto con loro, gli europei, presentandosi come un ponte tra il centro-destra tradizionale e il suo stesso campo più estremo. E la sua influenza ora potrebbe aumentare se dovesse sostenere, come sembra intenzionata a fare, il secondo giro della Fonderlion, un appoggio che significherebbe essere ricambiati con un portafoglio importante in commissione, rafforzando il suo ruolo di intermediario di potere. Dovrebbe abbandonare il suo attuale sodale Salvini, lasciandolo andare tra le braccia della destra più estrema. Ma non sembra che questo sarà un problema. Certamente non per lei. I giochi sono aperti. Di Meloni, Anche se per altre ragioni scrive anche Ares, il giornale dei progressisti israeliani, che in un approfondimento si chiede se Netanyahu stia perdendo un alleato chiave della destra italiana della Meloni. La premiera italiana fu infatti uno dei primi leader mondiali a mostrare sostegno pubblico a Israele dopo il 7 ottobre, ma ora anche lei prende le distanze e parla apertamente di uno stato palestinese. Con il suo ministro della difesa, Crosetto, che rincara la dose e aggiungendo «ho l'impressione che Israele stia ora seminando un odio che colpirà i suoi figli e i suoi nipoti». Ora Enrico Forti, detto Chico. Oggi ne scrive anche un giornale statunitense, il Miami Herald, benché la sua vicenda, di cui si è molto parlato negli anni qui in Italia, sia da sempre sostanzialmente stata ignorata negli Stati Uniti. Il regista italiano è stato condannato all'ergastolo per omicidi a Miami, scrive l'Herald nel titolo. Ora è in Italia per finire il mandato, dando per scontato solo loro, in realtà che anche qui resterà in carcere a vita. L'articolo ricorda i momenti chiave della vicenda, dal ritrovamento nel 1998 di un cittadino australiano a faccia in giù su una spiaggia di Virginia Key all'individuazione in Forti dell'autore dell'omicidio. Lui ha sempre proclamato la propria estraneità, ma le prove indiziali erano pesantissime e la sentenza fu confermata anche in appello. «Il lavorio diplomatico dell'Italia non è mai cessato», spiega ancora l'articolo. «Si sono dati da fare, destra e sinistra, nella loro alternanza al governo del paese. A favore del trasferimento in Italia di Forti c'è da tempo un largo movimento di opinione, che coinvolge artisti e intellettuali e nel 2020 con Di Maio ministro degli esteri sembrava che fosse cosa fatta, ma si è dovuto aspettare ancora fino a due settimane fa e il merito lo ha sostanzialmente rivendicato Giorgia Meloni. Nessun riferimento nell'articolo americano all'accoglienza che il governo italiano ha riservato a Forti al suo arrivo all'aeroporto militare di pratica di mare. Italia alla fiera del libro di Francoforte «Chi c'è e chi non c'è?» Un'altra polemica che monta qui da noi per il non invito a Sabiano da parte italiana a fare parte della folta delegazione ufficiale. Quest'anno l'Italia sarà ospite d'onore. Della Buchmesse, dalla Germania, scrivono già in tanti, Si tratta di un evento clou della cultura europea e Essen Schau, come alcune altre testate, precisa che, anche se non nella delegazione ufficiale, Roberto Sabiano a Francoforte a ottobre ci sarà in quanto invitato dall'editore tedesco. Gli scrittori che, dopo 36 anni di assenza, l'Italia porterà ufficialmente sono circa un centinaio, tra autori affermati ed emergenti. Ci saranno Baricco e Lamaraini e ci sarà l'italiana Ijabascego di famiglia Soma, la scrittrice, che si occupa soprattutto di multiculturalismo. Non ci sarà, ma questa volta per un suo rifiuto e non perché non è invitato, Antonio Scurati. Spiega, ancora l'articolo tedesco, che il padiglione italiano, progettato dall'archistar Stefano Boeri, è stato costruito come una grande piazza italiana di 600 metri quadri, circondata da colonne, archi e porticati sul modello delle numerose piazze italiane. Ospiterà diverse mostre, come una sull'antichità, un'altra su Macchiavelli e un'altra ancora sui viaggi in Italia di Goethe. Per concludere, una notizia di cronachetta spicciola, comunque finita su parecchi quotidiani internazionali, è quella della madre che ha abbandonato la figlia sul ciglio del grande raccordo anulare di Roma perché questa, 16 anni, aveva preso un brutto voto in latino. Scrive Tionlein, sempre della Germania, che quando la ragazza, solita a prendere dei voti buoni, ha detto alla madre di avere preso 4, questa ha accostato e ha spinto la ragazza fuori dalla macchina, poi è ripartita e non è tornata, non aveva fatto una finta. La ha trovata alla fine la polstrada sulla corsia di emergenza nei pressi del traforo sotto Lappia. La madre dovrà rispondere in tribunale di abuso su minori e abbandono di minore. Con questo è tutto. Vi saluto e vi aspetto domani. Buona giornata. Ristretto Italiano Di Ruggero Po